Tecniche di ventilazione in acqua Tanto da fare sollevare il torace E deve essere sempre eseguita da un'espirazione spontanea La prima tecnica è quella della ventilazione bocca a bocca Disponetevi a fianco dell'infortunato E ponete una mano, quella del braccio più vicino ai suoi arti inferiori Sotto il suo collo E l'altra sulla sua fronte Estendendogli leggermente il capo Se il subacqueo non indossa la maschera Chiudete le narici con il pollice e l'indice della mano sulla fronte E appoggiate le vostre labbra attorno alla bocca dell'infortunato Assicurando una buona aderenza Soffiate fino a vedere il torace che si muove Staccate la bocca dalla sua e prendete fiato Proteggendo le vie aeree della vittima Eseguite una ventilazione ogni 4-5 secondi Un'altra tecnica è la ventilazione con la maschera tascabile Detta in inglese pocket mask Che ha sostituito l'obsoleta tecnica bocca snorkel Utilizzare la maschera offre dei vantaggi Il bordo di tenuta del facciale assicura una buona protezione dall'acqua La maschera copre sia il naso che la bocca dell'infortunato La valvola unidirezionale evita che possiate venire a contatto diretto con la saliva O il vomito dell'infortunato Posizionate la maschera tascabile facendo passare elastico dietro la testa dell'infortunato Prendete fiato ed eseguite un'insufflazione per circa un secondo Controllando che il torace si sollevi Staccatevi Ed eseguite una nuova insufflazione ogni 4-5 secondi Controllando che il torace si sollevi